Cari amici, sono Gagio Panet49, Pietro Berti, e quella che vi leggo oggi è una poesia che ho composto io personalmente alla vigilia di Natale, così in pochi minuti. È in dialetto romagnolo ed è intitolata E' Nadel. La differenza fra i signori puretla svoita Nadel. I signori fanno a l'excursione e i vanno a l'isola di Bali. I puretti stanno a la televisione e intendo sgrattare il palo. Stanz la storia di Dijital e puretti ins la passa di tutto merda. E ha più cani la disposizione se trova bene e man senza fare confusione. Una boccia di spumento, una feta di panetone, un morso ogni tanto in tazteca di tirone, un lucidame di precipice sta bene e bambinell, una carezza mai ambeud e le passi su Nadel. Intest intenti nostre bell senyor, arrivati in Tàfrica lontana, esbreguiti so che so li so da tutta la semina, percepe una brunza d'eura che in capo un nigri la fa sa paura, e che tutti i gioini capessa che gli escapa, che gli sta in zir, che quel che amados le ha un sol conoscata in ticantir. La reclamo della miseria non la voiva ancora vista, che fosse una cosa seria e come fosse non una misvesta, ha un suo ancora proprio stamatoina in la piazza di Sant'Ustoina. Da l'astanza dei mandi nel palazzo comunale, dopo una pausa di quattro anni, l'herbata è il Brignadel. La voiva lunga e secca, un pello drem e qualche bel batec. Secondo me, la incri reumatoismi, anche se me storti lasciano un cataclòsmi. La voiva di gestione, mi fa quasi compasione. La patoia certi intenzionata, bisogna fare una ragione, perché il suo difetto mi fosse troppo evidente, a luci che è messa, lì in favore di un accidente. Il soffuso crea un'atmosfera, e dice la reclamo della prende etichetta nera. E il nostro soffuso non è una cosa seria, più che un spazio, non è la reclamo della miseria. Buon adelma a tutti, più che gli osi, anche a quelli di perciò. Ciao a tutti da Gaggio Panet 49, Pietro Berti. Grazie.